Non ci sono e non ci siano muri nella Chiesa Cattolica, per favore. È una casa comune, è il luogo delle relazioni, è la convivenza delle diversità. Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una Chiesa fraterna, che sia strumento di fraternità per il mondo. Con la vostra fraternità potete ricordare a tutti, all'Europa intera, che per costruire un futuro degno dell'uomo occorre lavorare insieme, superare le divisioni, abbattere i muri e coltivare il sogno dell'unità. Abbiamo bisogno di accoglierci e integrarci, di camminare insieme, di essere sorelle e fratelli tutti.